Oddio, io ti posso dire una cosa. Perché ti bruto le palle? Eh, vuoi essere megalodonto, oddio, non è per te. Se Gianni minava, il papa non scherzava. Mi chiamavano brocca di rosso da talmente che sono, come dire, sono anni che bevo l'italianico dell'oltre papa, che è più meglio di tutti i vitigni. È un'uva troppo bedda, perché allora è cosciente il vino dal più buio della radice e spiega le chicchi verso il cielo e si specchia dentro il mare. È una guaglia. Se non è bella è bella, che poi di pensare a qualche cosa di bello è peccato.